Ora io comunque ogni volta che farò passare Suor Cristina avrò tutti gli haters di The Voice o all'interno di The Voice che mi dicono che la faccio passare perché è Suor Cristina. Però in realtà, meno male che in questo caso era palese che l'esibizione di Suor Cristina era più coinvolgente. Nome, Cristina Scuccia, età 25 anni, città di provenienza Vittoria in provincia di Ragusa. Segni particolari è diventata un caso in tutto il mondo. La sua frase Ho un dono, ve lo dono. Tutto inizia con un brano di Alicia Keys. J-Ax è il primo coach a girarsi. Di seguito gli altri. In realtà questa mia presenza qui io credo che è proprio tanto importante per i giovani fuori perché abbatte tante barriere che magari la chiesa si è costruita, no? Suor Cristina entra a The Voice. Quando canta trasmette gioia perché tutte le ragazze vogliono divertirsi. È il suo motto durante una battle molto combattuta che alla fine la vede vincitrice. Mi sono sentita accolta dal pubblico, no? Prima di me ho aperto bocca, tutti in piedi, mi sono gasata. E ho detto ma se loro vogliono da me io gli devo dare, no? Ancora di più. Mi andrò avanti con Suor Cristina. E poi il knockout contro Benedetta Giovannini. Suor Cristina non sbaglia nulla e J-Ax la premia. Io scelgo sempre chi secondo me ha quell'immagine e quella voce e quel modo di porsi da mosca bianca fuori dal coro. E quindi con me porto avanti Suor Cristina. Sul palco dei live Suor Cristina continuerà a deliziarci con una voce potente e l'allegria contagiosa. è vero ben fra il passaggio. Il po' è un il ucino. Il po' è perché è un senso anno. Österreich costoso. Grazie.